Quando seguo lo sport ci metto tutto il cuore, proprio come voi. E con tutte queste emozioni è meglio che sia a posto. Sapete cosa mi aiuta? Uno stile di vita adeguato e il giusto controllo. E per saperne di più sulla salute del mio cuore, io uso PIC. PIC Mobile Rapid è il nuovo misuratore di pressione da braccio tutto in uno. È facile e soprattutto rapido. Misuro la pressione come ho sempre fatto. La tecnologia di PIC la rileva mentre il bracciale si gonfia e in più con un'app, PIC Health Station, trasferisco in un attimo tutti i valori sullo smartphone. L'app memorizza le misurazioni, ne fa una media e tiene un diario sempre aggiornato. Così, se necessario, posso condividerlo facilmente. Fatto! Già fatto? Ah, ovviamente anche il misuratore, posso sempre condividerlo con chi voglio. Visto? Semplice, no? E quando le cose sono semplici, la salute ringrazia. È facile, rapido, connesso. Per il mio cuore, scelgo PIC. Ah, questo è il mese dell'ipertensione. La prevenzione inizia dal medico e in farmacia.